A chi vuoi dedicare questi tre gol? Vabbè, in primi questi gol a me, tutti per la mia ragazza, poi alla gente ai tifosi di Piedimonte e ai miei compagni perché grazie a loro riesco ad andare in gol. Finisce con una goleata 4-1 contro il gol di Daniele Napoletano, oggi incontenibile e tutti di ottima fattura, e quello di Carnevale la gara del Matese contro il Tastevere terza della classe. La squadra capitolina va sotto dopo pochi secondi proprio con un gol rapina del bomber napoletano e poi con un gioco spumeggiante senza sbagliare quasi nulla, la squadra di Urbano, che sembrava un'orchestra perfetta, porta a casa una vittoria rimanendo in cima alla classifica. Il Tastevere ovviamente non pensava di trovare una squadra determinata che avrebbe fatto una gara quasi perfetta. Un Daniele Napoletano incontenibile e felice ai nostri microfoni a fine gara, poi a seguire mister Urbano per l'analisi tecnica. Allora, tre gol oggi, ma anche una risposta alla stampa in settimana. Sì, sono contento per la mia tripletta, però sono ancora più contento per la prestazione che abbiamo fatto noi squadra. Ci tenavamo tantissimo a fare una bellissima prestazione contro una grande squadra come il Tastevere e abbiamo fatto tutti una bellissima partita. Voglio fare i complimenti anche ai miei compagni che dal primo all'ultimo, tutti quanti lottiamo su ogni pallone e penso che oggi la vittoria è più che meritata. Senti, ti aspettavi una vittoria così pesante o no? No, così eclatante no, perché comunque è stata una bella vittoria, abbastanza importante, però non me l'aspettavo. Bene consecchiare gli attaccanti. Gli attaccanti fanno parte della squadra, diciamo che deve migliorare la fase offensiva. Oggi gli attaccanti, stimolati forse dall'articolo che hai fatto in settimana, ti hanno dato una grande risposta sul campo. Il Napoletano con tre gol, il Carnevale anche lui ha fatto gol, ma al di là di questo siamo stati bravi, abbiamo approcciato bene contro una squadra forte. Abbiamo fatto secondo me uno dei migliori primi tempi da quando sono qui, sicuramente buono come l'abbiamo fatto anche contro il Pineto dove probabilmente ci è mancato soltanto il gol. Oggi siamo stati bravi a sfruttare l'occasione, è stato molto bravo il Napoletano, è stata sicuramente una spina nel fianco della difesa avversaria. La difesa, come sempre, il centrocampo hanno lavorato molto bene e credo che il risultato sia soltanto figlio di una grandissima prestazione. Il risultato ci sta anche perché le occasioni ci sono state, abbiamo fatto quattro gol, ma abbiamo avuto anche altre occasioni per arrotondare il risultato, ma forse non sarebbe stato giusto, è un risultato importante per noi che ci permette di mettere punti in classifica e di rimanere in quella zona playoff che è il nostro obiettivo. Ecco, lei se l'aspettava una partita così del Matese, sinceramente? No, mi aspettavo una partita così perché molto probabilmente conoscevo molto la forza della squadra avversaria. Diciamo che loro sono rimasti un po' tramortiti dal gol che hanno preso a freddo, però poi è una squadra che ha le qualità per poter giocare 90 minuti, ma noi non gli abbiamo dato mai la possibilità di rimettersi in corsa perché siamo stati bravi a spingere nei momenti giusti, a rallentare quando c'era il momento di rallentare e a fare, secondo me, una delle migliori prestazioni di tutto l'anno.